Buongiorno, bentrovati. Buon venerdì 2 settembre. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro Rita Ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo sul Signore Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio e i due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro che cosa cercate? Gli risposero rabbì che tradotto significa maestro dove dimori? disse loro venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove gli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea fratello di Simon Pietro. Egli per primo incontrò suo fratello Simone e gli disse abbiamo trovato il Messia che si traduce Cristo e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui Gesù disse tu sei Simone il figlio di Giovanni sarai chiamato Cefa che significa Pietro. Parola del Signore. In questi giorni in cui ascoltiamo il racconto di Giovanni Battista, gli episodi che riguardano Giovanni Battista, ecco allora che ascoltiamo nel Vangelo di Giovanni Evangelista il gesto. Ascoltiamo il racconto del gesto della parola di Giovanni Battista che indica Gesù. Giovanni è lì con due discepoli, uno è Andrea l'altro è ignoto ma in realtà sappiamo dalla tradizione che è Giovanni Evangelista e Giovanni Battista indica il Signore Gesù che passa dicendo ecco l'agnello di Dio. In questo gesto, in questa parola, vi è una profonda comprensione del mistero di Cristo. Indicando Gesù come l'agnello di Dio, egli indica in Gesù il Messia, il Salvatore, colui che toglie i peccati del mondo, colui che si carica di tutte le nostre colpe. Quindi Giovanni, profeta, intuisce che il Signore è venuto a salvarci e lui, l'ultimo dei profeti, indica il Messia. In questo incontro, in questo incrociarsi di sguardi, in questo gesto, in questo indice puntato, vediamo i desideri dell'Antico Testamento che si compiono nel Nuovo. L'Antica Alleanza si realizza, si trova il suo senso nell'apparire di Gesù. Gesù che passa lungo il fiume Giordano, che aveva ricevuto poco prima il battesimo da Giovanni. Gesù è l'agnello di Dio. E i discepoli lo seguono. Sono appunto Andrea e l'altro discepolo che, secondo la tradizione, è proprio Giovanni Evangelista, ma che nel Vangelo resta innominato. Non è un caso che mai sia nominato Giovanni Evangelista. Non è solo umiltà, forse anche invitare ciascuno di noi a identificarci con lui, a capire che anche io, che anche tu siamo discepoli e amati e che anche noi siamo chiamati a fare una viva esperienza di incontro con Gesù, come l'hanno fatta Andrea e Giovanni. Quando un'esperienza dell'incontro con il Signore è profonda ed eviva, diventa subito testimonianza, come Andrea che racconta subito a Pietro, a suo fratello Simon Pietro, abbiamo trovato il Messia. Chiediamo alla grazia di fare una viva esperienza del Cristo per essere i suoi testimoni. Sia lodato Gesù Cristo.